Dove stiamo qui? Stiamo con Alessandra e Vanessa. Adesso ci fai vedere dove sta tuo papà? Sì. Che sta a fare tuo papà? Sta lavorando. Lavora come un cane morto? No. Eh sì, come una seggia. Allora, andiamo dentro. Sì. Oh, che fai? Prega e produce. Produce che però? Le buchi? Prega e non produce. Che fisico, guarda, guarda, Australia, a cui si vive bene. Sì, ma si vive bene. Che fai? Adesso scala. Vieni qua, io mi aiuto. Gabriele, non lo fare più. Si vede, si vede. Eh? Si vede, eh? Che? Stai registrando? Si vede come c'è? Fa dolce? Sì, vedi come lavoro io, duro. Minatore ha trovato una cassa d'oro. Che? Il minatore ha trovato una cassa d'oro nel Mississippi. E lui la troverà... Trovandolo a casa di Zuculino. E noi ci andremo dentro. Ah! Ah! Vedremo. Ciao, ciao! Ciao, 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 ciao. Che bella, Vanessa, che sei! Che bella, Ruperto. Che bella, Ruperto. Ogni colpo. E pensare che Zio ha preso le ferie per fare questo lavoro in giro qua. Le ferie, povere i tuoi ciccanti. Le ha fissati troppo male. Se io vengo questo cane, lo faccio. Gli può darsi che troverà una miniera. Ma che sta diventando? Ma che sta diventando? Già! 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 Ma sai chi fa? Vuoi sapere? Si! Fa diventare sosporeggi. Che? Fa diventare sosporeggi. Siiii! Ehi, Gabriele, vieni a Vincenzo e ti vieni aiutare a fare questi lavori. Vincenzo lo fa bene. Vincenzo è quello che lavora come un cane morto. Si, si, si. Ha voglia o Cava Ceppo? Cava Gabriella è qui. Cava Gabriella è qui. Cava Ceppo. Cava Ceppo. Cava Ceppo. A me. Cava. Un lavoro della donna. Vedete che ho fatto lavoro come un cane morto. Se vuoi prendere un acqua. Da. 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 ragazzi che fai? che fai? che fai? che fai? no roffetto, vatti via vatti via è meglio da qui, quando è tutto il tuo culo riempie la foto ehi va stupida isabella vieni a vedere il succo il succo di che? è il succo è il succo ruggine, manda un saluto succo, succo è un piacere vatti via guarda questo che fai? roberto registra il mio cibo grazie guarda il cibo che ho fatto fammi vedere yummy chi è? chi è? lo mangi adesso? fammi vedere che me lo mangi Mattè! 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 stai rinquente dai a te dai a te è speciale se la vuoi è una fettina da reclutare? no questa è questa è questa è questa è questa è è la lonza ma si mangia molto con la lonza tutto questo tutto questo è una cosa si la chiamata la coppa la chiamata la coppa? si, si per il posto ti consente più che ti mostra ciò 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 un gioco intelligente e sventila la scala la scala la scala mi sembra che io mi peso i figli sono molto pesante ma peccate i piedi Renato quanto torni? Renato quanto torni? vola vedere la fidata ma vince vola vedere il triscio quando hai fatto il terreno vince vince un cane morto domani ti faccio vedere come si lavora suda si lavora suda noi ciò abbiamo fatto suda oggi casa di Gabriele eh eh ciao ciao